A Castellaneta un momento di confronto interessante che ha messo al centro il Covid con un punto di vista però particolare, cioè tutte le mancanze di un governo e di un sistema più in generale istituzionale che si è disvelato in questo momento d'emergenza. Promuoverle è stato il centro studi meridionale, avete detto l'Italia deve ripartire dal sud, probabilmente tutti noi dobbiamo prendere coscienza della nostra forza. La scienza è conoscenza delle nostre forze e dobbiamo credere nelle nostre capacità per non subire più l'arroganza del prepotente. Chi alza la voce ha sempre ragione, per noi no. Noi dobbiamo cercare di alzare la testa e credere in quelle che sono le nostre possibilità di lasciare un futuro ai nostri nipoti e non un debito da pagare ai nostri nipoti. Ecco, qualche idea utile che è venuta fuori nel corso della serata per poter ripartire. Abbiamo sentito che avete a cuore i giovani, le nuove generazioni, è vero? Certo, tutto è per loro. Dobbiamo coinvolgere le università, le associazioni, le industrie, tutto quello che serve, e i giovani specialmente, perché insieme dobbiamo fare una gradatoria di quello che serve. Possiamo sbagliare la priorità, ma nel tempo si può fare tutto. Ecco, proprio nelle regioni del sud, in particolare nella provincia ionica, quanto il covid pesa ancora sulle spalle degli imprenditori, più in generale della cittadinanza? Sì, lo hanno soltanto subito, perché qua, grazie a Dio, non abbiamo avuto tanto. Però siamo stati soffocati da quelle che sono state le leggi del nord, perché loro non potevano aprire, perché sono stati devastati dal covid, e noi abbiamo subito. Però adesso loro chiedono i contributi, e i nostri commercianti che hanno chiuso, anche se potevano in maniera aperta, rimangono isolati. Grazie. 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 Grazie.